eccomi il mio primissimo progetto ma una cosa proprio veloce 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 perché volevo vedere in immediato il risultato ho preparato un progettino proprio per ricordare questa giornata che per me è stata memorabile venerdì 7 agosto giornata in cui Sean Petit ha annunciato il nuovo team di creative quindi sono insieme ad altre sette ragazze fantastiche non vedo l'ora di collaborare tutte insieme e quindi avevo questi fogli avanzati un po di carta un po parole che ho scaricato dal sito di Sean Petit parole che volevo che che mi accompagnassero durante quest'anno e quindi ho preparato un piccolo banner un uno striscione da poter appendere nel mio laboratorio ricordarmi un po le emozioni ma anche un po le cose che volevo sulla scusate sul quale volevo focalizzarmi per quest'anno quindi appunto ho usato un po di fogli di rimasugli da sapete quando si fanno gli esperimenti con la jelly printing insomma fogli di carta colorati fogli di libro fogli appunto scaricati dal sito di Sean Petit che è una libreria gratuita quindi basta che vi registrate al suo sito e vedrete che potrete scaricare alcune cose veramente interessanti per noi che amiamo lavorare con la carta e appunto ho attaccato queste parole che sono proprio quelle che che Barbara devi ricordarti durante tutto l'anno purtroppo nel mio laboratorio non ho pareti ma vetri e quindi non posso attaccare nulla da poter fare non so una si fanno queste board questi pannelli con tutte le cose scritte fotografie ok e quindi l'unica cosa che mi è venuta in mente appunto è questo standardo che appenderò nel mio laboratorio cercando appunto di focalizzarmi per quest'anno spero vi sia piaciuto vi aspetto grazie a tutti